Io mi sono proprio innamorato, mi è piaciuto non solo come balli, ma mi è piaciuto molto il fatto della profondità del tuo personaggio, il fatto che sei anche coreografo, il fatto che hai scritto quella cosa lì e sinceramente io con il mio team, in particolare con Leonardo Zaccaria che è un autore e un artista della mia casa psicografica, abbiamo pensato, poi ci darei tu se ti piace, di scrivere un pezzo per farti ballare. Quindi io spero che ti piaccia e sarei veramente onorato se volessi ballare su questa mia canzone, così da farla diventare anche tua. Un grande in bocca al lupo per il percorso che farai ad amici, ciao. Grazie, grazie mille. Bellissimo. Vuoi che te la faccio sentire Samuel? Volentierissimo. Parto. 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 Grazie a tutti.